Mi dice, Mentana ha scritto che siccome sono andati bene in borsa sarebbe ridicolo festeggiare. Caro Mentana, informati meglio perché saranno pure andati bene in borsa, ci mancherebbe altro. Dopodiché 3,4 miliardi li cacciano Benetton e li danno agli italiani. Il famoso contenzioso da 24 miliardi è escluso. I pedaggi si abbassano per gli italiani, la Corte Costituzionale ci ha dato ragione e Benetton ha accettato tutto e Benetton va a casina. Se rimane, rimane sotto il 10%, non ha neanche un posto in CDA. Cosa dovevamo fare, Mentana, per festeggiare? Dovevamo vincere i mondiali anche in un anno in cui non si giocano i mondiali? Cosa avremmo dovuto fare? Cosa dovevamo fare di più per festeggiare? Ditemelo voi.